Tocca anche l'Abruzzo la nuova inchiesta sul calcio scommesse, partita dalla DDA di Catanzaro che ha colpito calciatori, dirigenti, allenatori di società di Lega Pro e Serie D per frode sportiva allo scopo di alterare i risultati di decine di partite. Tra gli arrestati c'è il direttore sportivo dell'Aquila, Ercole Di Nicola, affermato a Venezia, sarebbe uno degli uomini chiave dell'inchiesta. L'Aquila come società non è coinvolta a livello penale, sarebbero quattro le partite dei Rosso Blu condizionate in questa stagione, le due con il Sant'Arcangelo e quella in casa con Savona e Tutto Cuoio. L'Aquila sempre nelle prime posizioni di classifica, nella seconda parte del campionato è colata a picco, mancando la qualificazione e playoff. Il vicepresidente Massimo Mancini è sgomento, aspettiamo di conoscere i dettagli delle responsabilità, dice, mi auguro che tutto si chiarisca, in caso contrario mi sentirei profondamente tradito e sarebbe la più grande delusione della mia vita. Tra gli allenatori coinvolti ci sono anche Arturo Di Napoli, Marco Tosi, Ninni Corda, tra i calciatori anche l'ex Giulianova e l'Aquila Mirko Garaffoni, tra i dirigenti Enzo Nucifora, ex di Torres, Chieti e Pescara, Gianni Califano, direttore del Monza ed ex del Giulianova e del Chieti, già coinvolto in passato, e l'abruzzese Armando Ortoli, DS del Catanzaro. Il comune dell'Aquila si costituirà parte civile nel processo legato all'inchiesta della procura di Catanzaro, lo ha annunciato il sindaco Massimo Cialente, per i danni morali causati da questa vergognosa vicenda.